In poste italiane l'inclusione passa dalla rete a Milano Corvetto, l'ufficio postale multietnico. Multiculturalità, il valore delle persone e inclusività sono i capisaldi del lavoro negli uffici postali multietnici. Siamo all'ufficio postale di Milano Corvetto, punto di riferimento per gli utenti stranieri del quartiere che possono contare sul supporto e la competenza dei colleghi dello sportello multilingue. Sono nata a Milano, di origine egiziana, sono sposata con due figlie, vivo a Cinisello Balsamo, mi sono laureata in lingue e letteratura straniere alla Cattolica di Milano e per tanti anni ho fatto l'interprete di lingua inglese e araba, finché appunto non ho iniziato a lavorare per poste. Qua è un ufficio molto multietnico, vengono veramente persone da tutte le parti e l'affluenza delle persone arabe è molto importante. Appena mi sentono parlare la loro lingua si illuminano perché si riescono a fare capire meglio, anche se è importante per le donne integrarsi bene nella nostra comunità e quindi io le incito sempre a studiare la lingua italiana per poter essere parte attiva della nostra società. Quindi in zona a Corvetto quando vai in giro ti riconoscono adesso, ti fermano? Sì, una sabato mattina mi ha fermato un ragazzo, stavo uscendo, stavo prendendo il caffè e mi ha detto eccomi, adesso entro appena aprite perché ho bisogno del tuo aiuto. Ho detto ma io sono in ufficio e adesso mi riconoscono anche fuori e quindi magari vedi anche l'importanza della persona che parla la loro lingua e loro anche culturalmente sono molto socievoli, molto amorevoli e quindi la prendono un po' così. però mi fa piacere perché significa che adesso hanno un ulteriore punto di riferimento. Io vi ringrazio e alla prossima.